E' tornata finalmente la notte di Champions dell'Inter, quella favorevole per l'Inter che batte il Barcellona, l'Inter batte il Barcellona per 1-0, incredibile per 1-0 batte l'Inter, l'Inter batte il Barcellona per 1-0. Tanti noi tifosi eravamo, io non guardo questa partita, però l'Inter fa la pazza Inter, intorno alla pazza Inter e quindi possiamo dire perfettamente che noi con questa vittoria ci dà una grande risalita e grande fiducia per la prossima partita che sarà contro Tassuolo, però mi soffrono solo la partita di ieri che abbiamo giocato una grande partita, non possiamo dire che non abbiamo giocato una brutta partita. Nel primo tempo ha giocato completamente solo e solo l'Inter, non ha giocato Barcellona, che l'Inter ha sperato un paio di gol, vi racconto anche le azioni, quello su Lautaro per un fallo di mano, ma purtroppo per un tacchetto è nel fuorigioco Lautaro, quindi non è assolutamente rigore quando un giocatore parte da fuorigioco. Poi un fuorigioco netto e il mister ha detto questo no, questo no, perché era fuorigioco di 3 metri, quindi non si tratta neanche di questo gol di 10 centimetri. E poi finalmente la terza prova, il gol di Cialanoglu nel angolino basso e finalmente possiamo dire che siamo i più forti della Juve, perché la Juve, amici miei, possiamo sforzare quanto vogliamo, perché ragazzi, la Juve deve ancora fare i punti in Champions League e noi ne abbiamo già fatti. 6. A parte questa, volevo fare una battutina, vi dico la mia opinione, una partita molto giocata dall'Inter, molto giocata, nel secondo tempo, negli ultimi minuti abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto tanto perché abbiamo fatto il gol a Barcellona, poi abbiamo levato via, poi tante cose, tante cose che per Barcellona sono proprio poche per loro, per noi ancora più tante. Come abbiamo fatto un'altra occasione, nel primo tempo, diciamo che tra Stegra e la Parra, quindi ne abbiamo fatti più tante di loro, quindi vedremo quello che sapremo fare. Nel secondo tempo stavo dicendo che abbiamo sofferto tanto, col gol di Gabi è annullato, col possibile tocco di mano di Davide, non si saprà mai se è mano perché non so come ha visto l'arbitro e l'arbitro ha deciso che non era mano, per me, non lo so. E quindi una notte di Champions per l'Inter favorebbe che si porti i tre punti al secondo posto e il Bayern Monaco al primo posto, ovviamente. E quindi non possiamo che dirci che la prossima partita di Champions League sarà il campionato, quella decisa per passare in Champions League, ragazzi. Dovremmo almeno fare un pareggio se vogliamo portarci a casa questi ottavi finali. Io, ragazzi, vi iscrivo al canale, vi faccio iscrivervi al canale, vi aspetto domani in live, dalle 5 alle 5 e 5 e mezza, dalle 5 alle 5 e mezza con l'intervista di Matteo Mosconi Ufficial, e prenderemo la Champions League nel prossimo turno del campionato, che sarà sabato alle 3, comincia proprio l'Inter con il suo suono. Ciao ragazzi e buon pomeriggio.